Ancora una rapina all'ennesima ai danni del supermercato Golden Market Sisa in via Rocococchi a Salerno. Intorno alle 20.30 d'orario di chiusura, ieri sera due giovani con il volto coperto da pasta montagna sono entrati nell'esercizio commerciale, hanno minacciato la cassiera ed il direttore con pistola e coltello intimando di aprire le casse. Il bottino per i due ormai venti è stato di soli 250 euro. Poi i rapinatori sono fuggiti via a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. Erano le 8.20 e sono arrivati mentre stavamo chiudendo il negozio, prima di chiudere il negozio, poco prima. Armati tutti e due, ci hanno fatto aprire il cassetto, due minuti, sono presi tutto e sono andati via. Hanno buttato una signora per terra perché c'era una signora anziana qua vicino, l'hanno spinta e niente, basta. Si sentiva il dialetto proprio napoletano. È successa tante volte la zona perché è molto tranquilla la sera, molto scura e quindi è riservata e adatta per queste cose per loro. Dall'inizio del 2012, come ci ha raccontato il direttore del supermercato, abbiamo subito già tre rapine, dunque la media di una al mese senza considerare le precedenti che ci sono state nel 2011. Ormai la gente ha paura e non possiamo più stare tranquilli. Sono venuti armati con pistola e coltello e mi hanno puntato il coltello qua alla culo. Come diceva, in pochissimo tempo abbiamo subito ben otto rapine. Sì, purtroppo sì. Sono ben otto, sì. Che cosa chiedete qui nella zona? Si richiede sicuramente molta sorveglianza, molta vigilanza, perché c'è molta paura sicuramente.